Un sacerdote completo, padre Cipriano, io l'ho conosciuto da piccolo a Pietrecina, lui era direttore del seminario di Gesualdo, la prima media Gesualdo, finita questa prima media, il 50-51, il seminario di Gesualdo è stato trasferito a Pietrecina con noi e quindi in quel tempo ho conosciuto padre Cipriano, impressionava la sua altezza, allora tutti a guardare, mamma quanto è alto, come è alto, ma non era soltanto alto padre Cipriano, era alto in tutto perché era un uomo intelligente, era un uomo affabile, era un uomo dai comportamenti signorili e poi aveva la sua bella cultura, amava la poesia, ha scritte diverse, amava la cronistoria, amava essere l'archivista, quindi raccogliere e quindi tutto questo complesso l'ho lasciato nelle sue opere. Padre Cipriano è da padre Pio che ha avuto l'ingoraggiamento a pare l'esorcista. Ah, questo lo sentiremo proprio da lui, già sei arrivato un po' piolato in scaletta. Ah, sono arrivato prima, vabbè, ma per dire, perché era la cosa che più impressionava, almeno a noi, in questa prima media, quando sentivamo parlare di Gesualdo, dei seminaristi, questa partecipazione del seminario alla preghiera con padre Cipriano mentre faceva gli esorcismi, era questo che impressionava a noi da piccoli, parlando sempre di padre Cipriano, a parte la sua figura, che quando uno fa parte della provincia dei Capuccini di padre Pio, non può non pensare a padre Pio, non può non riscontrarsi con padre Pio e pensare un pochettino come vivere la propria vita alla luce di questo grande personaggio, di questo grande santo che è padre Pio. Tutti quanti più o meno sono stati influenzati dalla santità di padre Pio, almeno come stimolo a tendere alla perfezione, perché tendere alla perfezione è un nostro obbligo e però non dobbiamo anche dimenticare, anzi dobbiamo mettere l'accento, che è un obbligo anche di tutti i battezzati. In Sant'Alfonso c'è una massima che nelle opere sue della teologia morale che fa veramente pensare chi, e parla di tutti i battezzati, non soltanto i sacerdoti, consagrati, frati, suori, eccetera, parla di tutti i battezzati. Chi non tende alla perfezione commette peccato mortale.